riprendiamo da dove eravamo rimasti ovvero dalla fine della discesa dal monte conero dalla vetta torniamo alla base e se ancora non l'hai fatto ricordati di iscriverti al canale clicca su iscriviti e poi sulla campanella per ricevere le notifiche e siamo nelle Marche strade esterrati del conero portonovo discesa e spiagge siamo al poggio e da qui tra poco inizia la discesa verso portonovo prima però un'occhiata alle condizioni in cui si trova dopo la grande pioggia di ieri l'imbocco del sentiero che porta sul conero via sterrato e qui si vede niente sterrato ok meglio rimanere su strada e proseguire verso portonovo lavoriamo in corso bene ja ok no 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 i tormenti sono uno spettacolo un panorama fantastico un po' 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 un Grazie a tutti. 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 colori spettacolare. di fine stati. Grazie a tutti. 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 di Porto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e ora ripassiamo. per la piazza di porto. per la piazza. a tutti. a tutti. a tutti. una veloce. a tutti. a tutti. a tutti. dobbiamo. dobbiamo tornare indietro. perché qui è tutto. chiuso. quindi dobbiamo prendere. un'apertura. e finalmente ci siamo. siamo arrivati all'ultima. spiaglio. di porto. a tutti. a tutti. è ora di tornare. indietro. questo video. è finito.